Ospiti d'eccezione a Caponago per la Festa della Repubblica, tra cui anche Martin Sal, che insieme al fratello Luis ha lavorato con Fedez al podcast Muschio Selvaggio. Un pomeriggio, quello del 2 giugno, non solo animato da personaggi noti ai giovani, ma anche da momenti di interesse culturale e interventi per riflettere sui valori civili insieme alla comunità. L'appuntamento alle 15.30 in Piazza della Pace, da cui prende avvio la visita guidata che conduce fino a Via Adua, passando per il vicolo San Gregorio, che riapre per l'occasione. Segue alle 16 l'inaugurazione di un nuovo spazio pubblico, accompagnato da un buffet offerto dall'amministrazione, e poi sul palco si susseguono Martin Sal, con il poeta e autore Domenico Emanuele Spagnuolo, per confrontarsi sui limiti e sulle possibilità nella Costituzione italiana, il Sindaco per consegnare il testo della legge fondamentale del nostro Stato ai neomaggiorenni caponaghesi, e infine Graziano Graziani, scrittore, critico teatrale e conduttore radiofonico. A chiudere la giornata di festa, dalle 18, un concerto a cura di Brianza Classica. L'organizzazione di questo venerdì di festa è stata curata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Capogiro, un gruppo di giovani che dal 2020 promuove il turismo a chilometro zero, per valorizzare le bellezze del territorio. Tutti gli eventi sono ingresso libero.